Allora, intanto noi stiamo chiacchierando le varie modalità che esistono nel nostro paese Fantasioso paese Fantasioso, sì, però come si diceva, purtroppo è talmente un paese complesso da vivere e oneroso, perché indubbiamente oneroso, quando parli con persone straniere che vengono da noi dicono, si spaventano, dicono ma come fate a vivere voi italiani nel vostro paese dove costa tutto l'ira di Dio, un posteggio, 2,50 euro l'ora, sono cose improponibili All'estero tu paghi, anche i mezzi di trasporto pubblici costano meno All'estero lo pagano tutti, c'è da dire Esatto, tra le altre cose sì, ma anche la metropolitana tranquillamente la pagano tutti adesso stanno mettendo dei controlli pazzeschi anche a Milano perché tranquillamente bypassavano i biglietti alla metropolitana E allora c'è da dire, perché gli italiani sono furbi, tra virgolette furbi in senso cattivo oppure perché sono necessitati ad essere tali proprio perché è un sistema talmente coercitivo cercano di prenderti e spillarti il possibile dicendoti che non è vero, che le tasse diminuiscono e quindi per sopravvivere sei costretto a perché lei stesso faceva un calcolo prima dei costi che ha un albergo rispetto a chi non paga le tasse e sono tutte in tasse, insomma come la benzina, la benzina è tutta in tasse Proviamo a rovesciare il problema, è affascinante il tema, gli italiani sono anarchici, i tedeschi sono precisi Proviamo a rovesciare il problema, perché un italiano portato in Germania o portato in Inghilterra diventa un ligio cittadino paga il biglietto e fa la coda al tram perché un tedesco portato in Italia dopo 5 anni che in Italia non fa più la coda al tram sbraita anche lui negli uffici pubblici e se può evade come quanto e più anche di un italiano è il sistema Italia, non sono gli italiani che sono sbagliati anche perché sarebbe preoccupante perché cambiare tutti gli italiani è un compito molto più difficile che cambiare la struttura di questo paese già, opera epica, però è meno e meno io ho la convinzione, da quello che vedo andando in giro per il mondo che l'italiano, l'anarchico italiano, tu lo porti in un paese ordinato come l'Inghilterra si comporta come un inglese, alzerà un po' più la voce al ristorante rispetto a un inglese però si comporta sostanzialmente come un inglese è l'ambiente che ti circonda, che ti detta le regole Eh sì, infatti, questo è verissimo Allora, vediamo un po' di fare anche una panoramica di qual è stata la situazione di un anno e più perché poi prendiamo dentro anche il Natale, se riusciamo il Carnevale non lo so adesso mi dica lei, forse non ci siamo ancora dentro però vediamo un pochettino la panoramica Regione Veneto, se ha qualche dato Italia comparabile visto che è dentro anche il sistema paese, ben volentieri Ma la comparazione io amerei Solo un attimo, un messaggio in un paese dove l'unica risorsa naturale è il turismo dove trovo assurdo ciò che dite e che accade in Giappone lo chiamerebbero Karakiri io lo chiamo essere stupidi ed essere gentile questo Concordo con lo spettatore ovviamente, cento su cento Detto questo, però vedi che sono importanti queste trasmissioni perché piano piano, cioè E la consapevolezza Porgendo la tematica, la consapevolezza si diffonde Io adoro la consapevolezza da parte, io dico sempre il mio compito non è convincere l'assessore Il mio compito è convincere il suo pubblico, è convincere i veneti Perché quando i veneti si convincono una cosa, sono loro da soli che spingono L'assessore ci arriva a De Plano Di conseguenza Perché il tema è riuscire a capire tutti noi veneti Quanto importante è il turismo per la nostra regione Quanti soldini possono tornare in tasca Non esiste un Veneto che possa di fronte a me o di fronte a chiunque Affermare, io non vivo di turismo E' facilmente smettibile Perché qualunque professione faccia, in qualunque ambito sia Vivesse anche di rendita, voglio dire Un qualcosa di indotto dal turismo ce l'ha anche lui Quindi è il nostro business È il nostro business comune Ed è lì che dobbiamo cercare di spingere Per farlo, indirizzarlo nel modo migliore Per essere più produttivo per il Veneto Perché poi è inutile fare 64, 100 milioni di presenze 200 milioni di presenze a 10 euro Io preferisco farne 40 a 30 euro, cosa dice lei? Assolutamente Ecco, questo è il discorso fondamentale Siamo un paese europeo Abbiamo costi di tipo europeo Dobbiamo avere i prezzi di vendita di tipo europeo Ma lei lo sa? Che l'Italia è il paese che vende il turismo A meno mediamente di tutto il resto d'Europa Cosa vuol dire vende il turismo? Fatto 100 euro dormire in Spagna in un albergo al mare L'Italia vende a 90 o a 80 Mediamente, non spaventiamoci È chiaro che Roma, Venezia, Milano e Firenze Sono allineati magari anche più care di Londra, Parigi, eccetera Ma siccome il turismo italiano è fatto di 33 mila Per quel che riguarda gli alberghi 33 mila strutture Mille a Venezia Scusi 500 a Venezia Tolte 3 mila strutture Il 10% Tutto il resto è sul mercato pesantemente E quello vende a meno Ma vuol sapere la cosa più bella ancora? Che il Veneto all'interno dell'Italia È quella che vende a meno di tutto il resto d'Italia Questi sono i dati sui quali riflettere Ma è possibile che io svenda Il mio territorio, le mie spiagge, la mia montagna Il mio lago, la pedemontana Quando altre regioni A meno di quella a cui vengono vendute Con tutto il rispetto La Maremma A cui vengono vendute La Puglia A cui vengono vendute le altre regioni Siamo più stupidi? Purtroppo ogni tanto venire a dire sì La risposta di Impeto sarebbe sì Perché se ci fermassimo E riflettessimo su questa cosa Già il numero di turisti Sarebbe sufficiente Se riuscissimo a tarare i prezzi In un modo intelligente Per tirare sulle finanze dell'intera regione Detto questo mi aveva fatto una domanda La domanda era quella di capire Come è andata un po' il periodo Allora Il 2015 si chiude con un leggero segno più Per quel che riguarda il Veneto in generale Con alcune località che sono andate meglio Alcune località che sono andate meno bene Allora con la premessa Che chiaramente non stiamo parlando di fatturati Stiamo parlando di numeri di pezzi prodotti Facendo un paragone industriale Lei non giudicherà mai la qualità di un'azienda Se le dico quel bullonificio là Fa 7 milioni di bulloni l'anno Lei mi guarda così Le dico fa 50 milioni di euro rifatturato Ne fa 3 di utile Ah beh Allora già ci capisce qualcosa di più Quindi non ho nessuna passione particolare A commentare questo tipo di numeri Però questi sono i numeri purtroppo Che vengono porti anche sui media Per cui va bene commentiamoli Allora abbiamo avuto un incremento di Abbiamo avuto un incremento superiore degli arrivi Rispetto a quello delle presenze E già questo va spiegato al pubblico Cioè l'arrivo è Io arrivo in una località Poi ci posso stare una notte E ci posso stare tre notti Se sto una notte sono conteggiato come Un arrivo una presenza Se sto tre notti sono conteggiato Un arrivo tre presenze Quindi l'indicatore casomai più rappresentativo È quello delle presenze Piuttosto che quello degli arrivi Si possono avere pochi arrivi E permanenze di un mese E questi sono soldi che rimangono sul territorio Allora l'aumento c'è stato Per fortuna Con la premessa ovviamente Che abbiamo beneficiato L'abbiamo già detto Purtroppo della situazione Non solo del Medio Oriente Ma della situazione parigina Perché se tanta gente è andata a Firenze Se tanti italiani sono andati a Venezia A Firenze, a Milano, a Roma E hanno riempito i musei l'anno scorso Ricordo che è stato l'anno record Delle visite dei musei italiani Ma questo perché? Perché a Louvre non ne trovava di italiani E in Louvre da solo Gli italiani che ogni giorno Si presentano i cancelli del Louvre Sono probabilmente pari a quelli Che si presentano in tutti i musei italiani Messi insieme Quindi anche questo ha contribuito Allora Vediamo di estrapolare i dati più succulenti Più interessanti Il dato più interessante in assoluto Che mi ha fatto tirare un sospiro di sollievo È vedere il ritorno pallido Ti pavido Timido Però un ritorno degli italiani c'è Un più 2,4% di italiani È un numero piccolo Però viene da una serie di crolli Negli ultimi 5 anni Il grafico ha fatto così per 5 anni E quest'anno ha dato una leggera impennata Allora Il ritorno degli italiani è fondamentale È stato fondamentale per esempio per le terme Le terme hanno perso ancora tedeschi Però hanno avuto un gagliardo Più 4,3% di italiani Che ha consentito alle terme Finalmente di invertire Quella bruttissima china Che avevano preso Quella tendenza che avevano preso Anche questo Valetto In chiave Sono chiuse tutte le terme Nel bacino del Mediterraneo Qua dovevano cascare Quindi non illudiamoci Che questa cosa possa durare per più di 5 anni La montagna La montagna ha avuto un segno più La montagna come il mare Ha calendari che sono scanditi però Dagli eventi atmosferici C'è neve o non c'è neve Piove o non piove E dal calendario E dal calendario Dal nostro calendario gregoriano Cioè La Pentecoste alta Favorisce le spiagge La Pentecoste bassa Non le favorisce La montagna a sua volta Carnevale alto Carnevale basso Gioca Quindi di anno in anno È difficile paragonare Le do un dato Sui 5 anni Che taglia la testa al toro La montagna veneta Ha perso 1.100.000 presenze Da 2010 A 2015 Quindi in una valutazione Di lungo periodo Non c'è niente da vedere Un disastro Un disastro Ecco ma Secondo lei Vedremo anche in altre In altre zone Perché c'è stato questo caro Un attimo solo che leggiamo Un altro messaggio Ma come si può essere inermi Di fronte ad una situazione Del genere Abbiamo una città come Venezia Che senza togliere niente Ad altre città Tipo Parigi Berlino Non ne ha per nessuno E sta diventando Un deserto nell'acqua Con turisti Che lasciano solo immondizie E pochi soldi Sottoscriverei volentieri Quello che dice questo signore Mi dà lo spunto anche Per dirne un'altra Noi eravamo la potenza mondiale Del turismo 40-50 anni fa Siamo al sesto Settimo Ottavo posto Ho perso il conto Il pare sesto E non mi appassiona più molto Neanche questa classifica Perché è umiliante E deprimente Siamo stati superati Dalla Francia Può anche starmi bene La Francia Ha delle bellezze A Parigi In Francia sono bravi A fare Ecco sono bravi Perché In Francia sono bravi Hanno la Maison de France Noi abbiamo l'Enit Ecco Cioè Questi sono i paragoni La Spagna Ci ha superato Ok Rifletto La Spagna La Spagna ragazzi Ha investito sul turismo La Spagna 40 anni fa Ha deciso Che doveva diventare Una potenza mondiale turistica Lo è diventata Grazie a piani Ventennali Investimenti spaventosi Per la maggior parte Finanziati dall'Europa Poi tra l'altro Perché le splendide autostrade E poi sono stati bravi Mi la riconosce Le splendide autostrade Però adesso fermiamoci ragazzi Perché se continua questo trend Abbiamo la Croazia che sta correndo No La Germania ci supera Adesso io con tutto l'affetto Per la Germania Con tutto l'affetto per la Germania Con la bellezza di Berlino Per carità dell'amor di Dio Però Venire a dirmi Che turisticamente La Germania Fra due anni Con lo slancio che ha preso Supererà l'Italia C'è da riflettere C'è da riflettere Questi paesi La Germania Produttrice di automobili Produttrice di frigorifero Produttrice di X anni fa Una decina di anni fa Ha deciso Che il turismo Doveva diventare importante Anche per la Germania La signora Merkel Era già cancelliera Dalla sera alla mattina Ha portato l'Iva Dal 17 al 10% O dal 17 al 7 Una cosa del genere Sul turismo Per agevolare il settore Certo Sulla fiscalità Come immaginare Il boom delle presenze tedesche È partito da quel giorno lì La Germania Fra due anni Ci supererà Ma adesso abbiamo la Croazia Che fa la destagionalizzazione Per cui Non solo l'estate Perché ha visto un boom Pazzesco Ma anche le mezze stagioni Con una campagna Molto molto interessante Con struttura alberghiere Che hanno tutti i servizi Hanno stanziato Se non ero 8 miliardi di euro Di promozione Per i prossimi 10 anni Una cosa del genere Questo vuol dire che L'Italia finanzia Con 22 milioni Milioni Miliardi Parlavamo 8 miliardi Contro 22 milioni Per l'Enit L'Enit ha 22 milioni Di euro Di cui 19,8 Circa Li spendi di personale Per fare la promozione Dell'Italia In tutto il mondo Per capirsi Quando Zai era assessore Al turismo Quindi 10 anni fa Malcontatti Aveva 43 milioni Di budget La regione Veneto Sul turismo Abbiamo già capito Qual è la situazione Allora torniamo Su questi temi Tempo vola pubblicità Pochi secondi Tra poco Grazie a tutti